Dopo le voci ora c'è l'ufficialità, Nicola Brienza sarà il nuovo allenatore del pallacanestro Cantù. È una sorta di ritorno per il canturino che ha adesso le idee ben chiare per il futuro. Siamo un club ambizioso, sono un allenatore ambizioso, prenderemo giocatori ambiziosi, abbiamo un gruppo di italiani che è molto ambizioso. Questa ambizione ci deve portare a lottare sempre e a dare sempre il massimo. Non è semplice vincere i campionati, Cantù negli ultimi tre anni ci è andata molto molto vicino e un po' di sfortuna e magari qualche particolare non ha permesso di raggiungere quell'obiettivo. Da parte nostra ci deve essere sicuramente la voglia di primeggiare. Sono entusiasta per questa bellissima sfida, ha detto Brienza durante l'incontro, ringraziando la società per il nuovo incarico. Anche se mancano ancora due mesi al primo allenamento, ha detto il nuovo coach, c'è una grande voglia di iniziare. Brienza, canturino di nascita, ha iniziato a muovere i primi passi da allenatore proprio sulla panchina di Cantù. Quest'anno alla guida di Pistoia ha ottenuto ottimi risultati ed è stato insignito dalla Lega Basket del premio di miglior allenatore della Serie A 2023-2024. Ora l'obiettivo, seppur mai detto apertamente, è quello di riportare Cantù in Serie A dopo tre stagioni passate in A2. L'obiettivo è competere e essere sempre all'altezza della maglia che indossiamo. Se saremo capaci di essere sempre all'altezza della maglia che indossiamo, allora secondo me abbiamo buone possibilità di fare una bella stagione.